Animate ogni sera, ogni sabato da un grande stilista, questo stilista che adesso la nostra camera inquadra ha vinto in questi giorni il premio Taormina come stilista dell'anno e Raniero Gattinoni ha creato i vestiti che vedete stasera apposta per Fantastico cioè non sono in vendita, sono stati creati apposta per questa nostra serata natalizia Raniero Gattinoni, navigando! Raniero Gattinoni, navigando! Tu non sai dov'è Ma un giorno la vedrai Navigando, navigando E seguire un cuore, vada a fondo Fino a palco Vino a dove il sogno porterà E visto che già ti devi partire Meglio fare il piaggio in compagnia Navigando, navigando Tutti insieme ai cuccioli del mondo contro vento Vino a dove il sogno 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 Gravigant, gravigant, gravigant Gravigant, 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 gravigant 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 e impulso a vivere il mondo contro te con un canto ma l'ancora su la tua stella è là e là sei tu la tua stella è là e là sei tu la tua stella è là e là sei tu